La parata del 2 giugno Il capolavoro, l'organizzazione delle partenze, perché si susseguano regolari le formazioni di velocità diverse. Rappresentanze di tutte le armi e specialità sfilano davanti al presidente Inaudi che le saluta a nome nostro. Il sole di giugno sprigiona una fanfara di luccichi dai carabinieri, ma un'altra fanfara riaccende l'applauso. Due grandi unità al completo aprono un capitolo nella storia delle nostre forze armate. Prima la divisione dei granatieri di Sardegna, con i reparti contraerei, con i lancieri di Montebello, cavalleria blindata sulle Greyhound e sugli Stuart. I ragazzi del Montebello avevano combattuto con i granatieri nel 43 a Porta San Paolo. La storia li ha uniti, l'esercito organicamente li ha pianto. Poi la brigata corazzata Centauro, sei anni sono battati a questa ricostruzione. Rinate le case e le strade, oggi battezziamo la rinascita delle forze armate.